Il mio cliente è prostrato e stravolto, oggi anche l'esposizione mediatica è tale da incidere fortissimamente sulla sua serenità. L'avvocato Giovanni Di Lullo difende l'allenatore del San Luigi ai domiciliari in seguito agli accuse di abusi sessuali su alcuni suoi giocatori minorenni. L'uomo, spiega il suo difensore, aveva impostato il proprio metodo di allenamento in modo particolare. Un metodo educativo, perché comunque riguardava ragazzi giovani, adolescenti di 10-11 anni, in cui faceva predominare l'aspetto umano, l'aspetto amichevole, l'aspetto affettivo, e sempre su questo nucleo sono stati mantenuti rapporti che gli esclude nella maniera più assoluta che possano aver avuto qualsiasi connotazione di natura sessuale. In questo contesto, secondo il difensore, sarebbero sorte le accuse nei riguardi del suo assistito. È possibile che qualche atto, qualche gesto sia stato malinterpretato e che in un contesto, quello dell'attività sportiva, in particolare dell'attività calcistica, che è uno sport di squadra, dove spesso succede che ci siano abbracci per esultanza, piuttosto che per goliardia, che ci siano stati dei contatti tra le persone. Ma da qui a ipotizzare che essi abbiano avuto quella connotazione di natura sessuale che è sanzionata e punita dal codice penale, ce ne passa. L'avvocato di Lullo poi ritiene che i messaggi inviati dall'allenatore ad alcuni suoi giocatori, parte integrante dell'accusa, debbano essere analizzati nella loro interezza. Abbiamo letto appunto di messaggi che dovrebbero essere esattamente interpolati in un contesto ben preciso e invece presi uno per uno effettivamente possono dare una certa idea e quindi consentire determinate interpretazioni. Infine un ulteriore elemento, la difficoltà di raccogliere le testimonianze dei minori. C'è infatti il rischio, secondo l'avvocato, che i ragazzi procedano quasi per autosuggestione. Grazie a tutti.